Ciao ragazzi, ben ritrovati qui con il mio canale E si ragazzi, oggi cosa andiamo a fare, cosa andremo a portare, come leggete il titolo, cosa faremo oggi Portiamo un nuovo gioco che mi è stato dato ovviamente per portarvi, per spippolarci tutto insieme Ovviamente ragazzi, se la serie vi piace, ovviamente spendete un minuto del vostro tempo qui sotto nei commenti A dirmi la vostra, se questa serie vi può piacere oppure no Ragazzi, è un gioco di Rating Company Simulator È un gioco del prologo, quindi deve ancora uscire il gioco definitivo Però stiamo provando il prologo di questo Rating Company Quindi dovremmo fare un po' una sorta di simile al gioco del Clothing Store Simulator Molto simile al gioco Però qui dovremmo affrontare sfide e nuove cose Quindi è sempre però riguardante al mondo dei visiti e al mondo della moda Quindi dobbiamo sempre trattare i stessi argomenti Però con sfide molto diverse e con ovviamente giocabilità diversa Ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare un bel pollicione in su per supportare questa serie E soprattutto il canale Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nulla In descrizione tutti i link sono gratuiti ragazzi Non vi costa nulla darci un'occhiata E noi ci partiamo subito con questo nuovo capitolo Stavo un po' spippolando l'audio perché è abbastanza forte ragazzi Quindi stavo vedendo un po' di passarlo un pochettino Perché non vorrei che ci spacchi alle orecchie e poi tutto quanto Detto questo ragazzi, stiamo a provare a fare una nuova partita insieme Vediamo un nome alla partita, la chiamiamo, che ne so, chiamiamo XpazzoX Dai, non ho tante fantasie Inizia e vediamo un attimo cosa dobbiamo fare Quindi un gioco, andiamo a provare questo prologo insieme Gioco anche in italiano come potete vedere E adesso andiamo a seguire il tutorial insieme C'è un tutorial certo per farti capire le meccaniche di gioco Dopodiché sarà pronto per fare evolvere il tuo umile negozio In una grandissima azienda di vendita al dettaglio Quindi possiamo fondare un negozio e poi si trasformerà in un'azienda Vabbè, noi ragazzi accendiamo ovviamente il tutorial Perché dobbiamo, come dice qui, dobbiamo capire le meccaniche di base del gioco E quindi andiamo a vedere Allora, nome nel negozio Ok, quindi questa è la nostra cittadina Madonna, aspettate Questa è la nostra cittadina Ok Negozio chiuso È molto bello, vedo Abbiamo 1500 euro Ok, quindi questo è la nostra cosa che dobbiamo fare Dai un nome al tuo negozio E come faccio? Per cliccare il cartello del negozio Ok Allora, possiamo mettere i loghi Perché ora il logo non lo so Andrei a scegliere un logo La coppa, il re Chiamiamo Chiamiamo StoreXPazzoX Che cazzo è questo? Dai ragazzi, non lo so Approva StoreXPazzoX, ok Interagisce al computer Firma un contratto col brand e fai un ordine Vabbè Quindi questo è il nostro negozio Diciamo così Questo mini negozio che partiamo Poi qua non so che ci sarà Ah, qua c'è il magazzino Un magazzino Qua dove arriveranno gli ordini, presumo Si può aprire questa porta Quindi qua è dove ci arriverà la Cioè la roba Dove arrivano i camion Scaricare Non lo so Vabbè Abbiamo anche una sorta di magazzino Un po' piccolino Non so se dopo ce lo farà espante Però dopo andremo a vedere Allora, cliccare per accedere al computer Poi il computer ragazzi va Va spippolato Va spippolato Tutte le cose che andrà Spippolato Contratti Ok, facciamo un contratto con il brand Vabbè, sì È molto simile Come ho detto al gioco di Clothing Store Simulator Solo che sono due giochi Comitamente diversi Sì Hanno la stessa categoria Fanno le stesse cose Però Sono due giochi Comitamente diversi Soprattutto anche di sfide Giocabilità Come ho detto prima Però si basa Soprattutto sulla stessa cosa Allora, vabbè Confirma il contratto Ok, adesso Usciamo qua Mercato Aggiungi al carrello Ok Allora, vabbè Qua ci fa vedere la quantità Arrivano otto pezzi Prezzo di unità Noi la vendiamo a due A due euro e settantotto Centesimi La maglietta A noi ci costa ventidue Però Lo stock ci costa Ah no, aspetta A noi ci costa Scusate A noi ci costa due euro e settantotto Il prezzo di vendita è ventidue euro Ok, facciamo aggiungere il carrello Ok, andiamo qua Compra Ok Vabbè, seguiamo questo le basi Ok, ce la mette qua Raccogli la scatola Vuota la scatola Vi alzi i prodotti Metti la sventila in venso Ok Allora Per aprire la scatola Ok Ok, metti la scatola Vuota nella spazzatura E dove è la spazzatura? Acqua Ok Imposta il prezzo del prodotto Imposta il prezzo del prodotto Ok, quindi Lui ci consiglia Prezzo consigliato 13 euro 13 euro e 90 Prezzo di dettaglio Approva Ok, adesso Compra un camerino Oh, bello il computer Guarda qua Anche quale vende le RGB Signore Ok, allora Veniamo indietro Mercato Equipaggiamento Camerino Check out Compra Ok Ok Eh, mo Dobbiamo vedere dove cazzo piazzarlo Sto Sto camerino Io metterei proprio qua Una sorte di privacy Ok Ok Apri Apri il negozio Come si apre Ok Aperto Interagisci Lo giro di cassa Aspettando il primo cliente Canzioni i prodotti Cliccando su essi Prendi il denaro Prendi il denaro Prendi il denaro Vabbè Vabbè Adesso dobbiamo aspettare E il fatto che abbiamo solo quei Non so se ci fa ordinare Scusa, eh Intanto che arriva qualche cliente Posso ordinare anche Quest'altra maglietta? Beh, intanto Che siamo a fa Se no, scusa Rambiamo anche Salve Aspetti, eh Eh, vediamo un po' Sennò dirò che si va a fa Quattordici E novanta Perfetto Eh, sì A me lo abbiamo riempito Anche quello che si va a fa Salve Allora, prendi per il cesso di cassa Eeeh Scansioni i prodotti Come si scansionano Eh, che devo fare? Eeeh No, aspetta Ho sbagliato Mi scusi, signore Mi scusi Prego, prego La cassa è aperta Ah, ok Devo prendere così Ah, ok Eeeh Quando devo vedere il resto? Sei Sei e dieci No Arrivederci Vabbè, tipo una sorta di supermarket Cantoniamo Carta? Ok Sono tredici E novanta Arrivederci Vabbè, sì Una sorta di molto bello Anche lei con la carta Ah, perfetto Tredici E novanta Centasimi Anche lei? Perfetto Anche lei con la carta Tredici E novanta Approvato Ma che contanti, signora No Vabbè, l'importante è che Abbetando stiamo a stesso prezzo Non è che E' che fare cose Dico la carta Ok Tredici Eeeh Sbagliato, scusi, signora Stavo facendo pagare Mille trecento euro Tredici E novanta Prego Te leggo la carta Ok, carta Ho fatto un po' di post Eh, un po' di post Signori Ho fatto un po' di post Le magliette sono svuotate Eeeh Un cliente non è riuscito a trovare La t-shirt rosa Vabbè, dobbiamo completare Vabbè, io direi di Allora, scusa Ordiniamo Tanto abbiamo solo quello Che dobbiamo fa Prendiamo la t-shirt rosa Eh, sì Però se non la compro Eeeh Eh, oh, dai Sì, eh Mettiamo t-shirt, t-shirt, t-shirt Prego, prego Eh, vabbè Tanto, ragazzi Abbiamo solo queste due magliette Adesso da ordinare Non è che possiamo fare un gran che Poi, quando nell'attesa Andremo a spippolare Anche meglio il computer Perché ci sono tante cose Che dobbiamo vedere Il gioco è molto ottimizzato Molto ottimizzato bene, ragazzi Quindi questo prologo Fino ad adesso ci piace Salve, signori Hai provato tutto? Poi qua vediamo Se ci fa ingrandire il negozio Eeeh Se ci fa espandere Non lo so Questo cosa vediamo Buonasera Ok, sono 27 Paghe in contanti Ok, il resto La madosca 5, 6, 7 No, ho sbagliato 7 1, 2 E 20 centesimi Ha pagato Ha cacciato il centone Ha cacciato il giovane Buonasera, signora Buonasera Comunque, questo è anche un bel quartiere Un bel quartiere di zona Vedo molta gente E poi dopo Scusi, andando Vediamo una cosa Fammi vedere un po' Che ci sta in questo computer Allora, il mercato Cosa possiamo comprare? Equipaggiamenti Abbiamo tutta la sorte Di equipaggiamenti Eeeh Ok, e carta da parati Ovviamente possiamo cambiare La carta da parati Ovviamente Oh, scusate Si è fatta la fila qua Carta Eeeh 29 80 Prego Contanti 70 euro di resto Il negozio è di livello Eeeh Addirittura Paghe con la carta, signori Le pago con la carta 28 80 Contanti 21 Eeeh 20 Vai, arrivederci Carta Ok, ragazzi Lo siete anche di livello Eeeh Sì, vabbè Ma dobbiamo ordinare Un po' di roba Contratti Vabbè Ci fa fare un nuovo contratto E noi ragazzi Lo firmiamo Il nuovo contratto Perché cominciamo a mettere Anche roba nuova Contratti firmati Ne abbiamo due Allora Eeeh Mercato Adesso dobbiamo ordinare però 1 2 1 2 E ordiniamo anche Eeeh Mamma mamma Due di questi Aspetti, eh, ricardo Un attimo Prego Carta 14 E 90 Carta 13 90 Potevi vedere che la giornata Ragazzi Dura molto Potevi vedere che la giornata Dura molto Allora, facciamo una cosa Chiudiamo un attimo il negozio Perché qua dobbiamo un attimo Vedere un po' come funziona Un attimo Allora, intanto Questo qua Io direi di mettere Eeeh Siamo proprio vicino Qua Signori, il negozio è chiuso Giovane È chiuso il negozio Che sta facendo? Ma si è chiuso il negozio? Ma come fa ad entrare? Si è chiuso Scusami Signori, il negozio è chiuso Signori Allora, io dico una cosa Ma è chiuso il negozio Io non Vabbè 13 Cioè Mi sa che c'è un piccolo baghetto qui C'è un piccolo bug Il negozio è chiuso Ma cazzo sta vestito Che cazzo Hulk Hulk, signori Cioè io non lo so ragazzi Il negozio è chiuso Vabbè Allora Mettiamo le magliette Qua dove già ci avevamo Vai di gialla E ora ci mettiamo anche Roba nuova Che abbiamo Ordinato A differenza di quell'altro Che allora si possono fare Magliette personalizzate Non so se si potranno fare Anche qua Eeeh Allora Dobbiamo fissare il prezzo A queste Eeeh Vediamo un po' Allora Questo 22,90 Eh si Sono maglie più 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 Marche più prestigiose Sono 12,90 12,90 Ok ragazzi Vedete Abbiamo due marche Chiù Ok Quindi Vabbè Passiamo Alla successiva Vediamo un po' Cosa abbiamo fatto Saldo Mi meno Vabbè Sì abbiamo comprato Fatto Quindi Prossimo giorno Ok Ok Signori Possiamo Appogliere Eeeh Abbiamo livello 2 Vediamo cosa possiamo fare Possiamo fare un gran che Sinceramente Pelpe Ok Vabbè Non abbiamo niente Prodotte qui Facciamo Vabbè Dobbiamo solo Continuare Però scusa Se io faccio un ordine Compra Ma non le posso mettere Al magazzino 3MG per lasciare La scatola Ok Per il momento Ce le mettiamo qua Abbiamo una sorta Di magazzino Lo andremo a utilizzare Che dobbiamo fare Poi ci mettiamo Le due marche B B e D Ce le mettiamo qua E queste altre marche Ce le mettiamo di qua Lo distinguiamo un po' E vediamo un po' Se mo' ci segna Al magazzino Che abbiamo La roba Fammi vedere Mercato Equipaggiamento No come si faceva Vedere Inventario Il magazzino Oddio Ce lo segna Abbiamo 8 e 8 Ok perfetto Inventario controllato Vedeteci Per quanto abbiamo controllato La carta da pareti La possiamo cambiare Ah ma Ah ma del computer No della Ah io che Io credevo Che era della cosa Un po' di merda Prego Buonasera signori Mi sa che dobbiamo mettere Un altro camerino Secondo me Mercato Come un camerino Lo compro Ah non è abbastanza soldi Ok Siamo poveri Salve Salve Allora 5 6 2 No ho sbagliato È 20 centasimi Arrivederci Carta Grazie 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 Il posto è abbastanza ampio Se lo metto Se lo metto Se lo metto girato Almeno capito Abbiamo una sorta Di cosa Vuole fare I cazzi miei Agli altri Insomma Quello che faccio Sono 14 14,90 Carta 8 80 Salve signora Buonasera Carta 7,80 Ok Carta Anche lei 2,90 Prego Prego Allora E' un po' Come siamo combinati Qua Allora Rimettiamo un po' Di magliette Quindi andiamo a prendere La maglietta Joalla La rimettiamo Un pochettino Eh sì Va bene Volendo potremmo fare Altre ordini Però Non vedo Tutta sta Cosa di farlo Adesso Perché dobbiamo avere Pure Qualche scaffale Dobbiamo pure Comprarlo Secondo me Andiamo a vedere Il fatto che non abbiamo soldi I soldi dobbiamo farli Accumulare Signore Accumulare Perché No Salve arrivo subito Contanti 5 e 10 Sì ma tutti Ma tutti con la carta Mi pagano Ma è solo In contanti Parte la signora Salve Ma lei non era passato ieri Comprare la roba Salve signora Carta Ok 8 e 80 Allora Potremmo mettere Però non abbiamo soldi Per mettere Un altro Un altro Coso Salve signora Sono tanti 5 e 6 5 e 6 5 e 6 4 Allora 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 Possiamo ordinare Un altro camerino Se me ragazzi Un camerino Non ce lo dobbiamo Comprare per forza Anche se non abbiamo soldi Anche se non abbiamo soldi Non so se c'è un camerino Più grandi Raggiù c'è il carrello Vai Compra Aspetti Eri Metto un altro Signori Di camerino Non me lo fa Attaccare Però Ok 6 e 10 centesimi Arrivederci Ah Forse Qualcuno Con qualche contante Arriva Meno male Il negozio è tutto di livello Vai Stiamo livellando Come un pazzo Come pazzi Ragazzi Salve Buonasera Anche le incontanti Che è successo Ma tutti incontanti Se ne arriva No 4 Vai Arrivederci Eh Ma che soldo Allora Riprendiamo la robetta qua Questa t-shirt rossa Ok Cominciamo a riempire Un po' di cose Cazzi Magazzino qua Ok Maglietta rossa Tutte magliette che se ne vanno Qua la gente compra Eh signora La gente compra Compraci Compra La roba Ok Eh Dobbiamo riordinare Un po' Salve Scusate Stavo ripornando il magazzino Prego Prego Signora Carta Ma Vanno Ma toccata di credito Prego Prego Salve Sono tanti 4 euro E 20 centesimi Di resto Arrivederci Carta Ok Sono 45 80 Signore Comprata Comprata Signora Eh prima La giornata Però Prima chiude Ma perché non mi fa chiudere Se voglio chiudere Eh non mi fa chiudere Vabbè Prego Prego Signori Che stiamo per chiudere Stiamo per chiudere Signori Forza Forza Ultimi 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 72 22 euro Di resto Amara Un Parta Ok Contante Signora Quante carte Devo ridare 5 5 6 7 7 E 10 Centesimi Arrivederci Signora Allora Riforniamo L'ultima roba Che abbiamo Qua Niente Poi vediamo Usando qualche soldo Lo siamo rifatti Devo dirci Lo siamo rifatti Però Non tanti Però Vabbè Ok Questo è vuoto Buttalo E Tutta Qua Eh sì Così A meno Ci prepariamo Anche per Il prossimo giorno Signore È chiusa Ma Io non capisco Ma Vengono a comprare Ma se è chiuso Ma il negozio Cioè Sono le 22 di sera Mi scusi Cioè Non so Cioè Mi fate andare a casa A dormire Non è che c'è scritto H24 Sul negozio Però Eh Aspetta Non è che c'è scritto H24 Non lo so io È che c'è scritto Aperto tutta la no Tutta H24 Cioè Io andavo pure a casa Ho una famiglia Devo mangiare Ma che è Oh Capisco lavorare I soldi Sono i miei soldi Però viene un certo punto Qua Dai Facciamo questi due clienti Dai signora Dai Andai a casa a mangiare Mi aspetta mia moglie Ha fatto il risotto Cioè Che dobbiamo fare Arrivederci signora Capisco Che devo lavorare Che mia moglie Se non mi mena Però che devo fare Allora Facciamo una salvatina Facciamo serie La chiamiamo Serie Salva Ok Mandiamo La giornata successiva Allora Dai Abbiamo incassato Poi vabbè Ci sono state spesi Il fornimento Affitto Eccetera Eccetera Prossimo giornos È chiusa Ok Vabbè ragazzi Io mi fermerei qui Per questo primo Episodio Andiamo a Sottoscrivere Andiamo A sottoscrivere Ragazzi Andiamo al menu Principale Perché è dove ci salutiamo E dove ci diamo Il benvenuto Ragazzi Spero che questo primo Episodio Di questo nuovo gioco Di rete Il company simulato Prologo Vi sia piaciuto È un gioco Simile a quello Che ho detto prima Però Con meccaniche Un po' diverse Ovviamente Stile Diciamo È un po' diverso Ormai Vabbè Simulazioni Sono sempre questi Però Hanno due meccaniche Completamente diverse Anche sulla funzionalità Del gioco Ragazzi Fatemi sapere Se questa serie Vi possa garbare Io intanto ringrazio Di avermi fatto compagnia Di essere stati con me Anche in questo video In questa serie Ragazzi Ovviamente Sotto nei commenti Fatemi sapere la vostra Ragazzi Spolliciate un bel pollicione in su Un bel like Per supportare serie e canale Per favore ragazzi Tanto è gratuito Iscrivete al canale Attivate la campanellina Per non perdervi mai nulla In descrizione Tutti i link sono gratuiti E noi ci becchiamo Nei prossimi video Qui sul mio canale E non mancate Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti